Sono innocente e presto lo dimostrerò. Il comandante della polizia stradale di Como, Patrizio Compostella, arrestato ai domiciliari martedì in seguito a un'operazione della procura di Como che ha azzerato i vertici della polstrada lariana per un presunto giro di multe cancellate e favori ai colleghi, ha risposto oggi alle domande del giudice per le indagini preliminari, Maria Luisa Logatto, lo stesso magistrato che aveva firmato le ordinanze di custodia cautelare. Le accuse, lo ricordiamo, sono di abuso d'ufficio, peculato e falso. Compostella, difeso dagli avvocati Aldo Turconi e Sonia Raimondi, avrebbe respinto ogni addebito, lodando addirittura l'operato della polizia stradale nelle premesse e ringraziando tutti i suoi collaboratori. Sempre Compostella avrebbe quindi annunciato di avere intenzione di portare testimoni e documenti scritti che ribalteranno completamente quanto prospettato fino ad ora dalla procura di Como nei suoi confronti. Oggi il giudice per le indagini preliminari ha interrogato anche gli altri tre agenti della polstrada arrestati che si trovano ai domiciliari, Massimiliano Busnelli, Lorenzo Falzetti e Massimiliano Bonizzoni. Bonizzoni, difeso dall'avvocato Pierpaolo Livio, avrebbe detto che il suo compito era inserire gli esiti dei ricorsi alle multe nel terminale, ma che non era a conoscenza di tutto ciò che stava dietro. Secondo l'accusa, infatti, numerose multe elevate dal tutor sull'autostrada Milano-Bergamo non sarebbero state notificate dalla polstrada Comasca perché classificate come impugnate. E proprio su questa vicenda, dalle pieghe dell'inchiesta emergerebbero due particolari interessanti. Il primo è relativo alla quantità dei ricorsi. Giampiero Pisani, vicecomandante arrestato, avrebbe trasmesso in un solo giorno, peraltro domenica, oltre 100 ricorsi. Il secondo riguarda i soggetti ricorrenti. Un ricorso sarebbe stato presentato da un signore, G.C. le sue iniziali, a oltre 4 mesi dalla sua morte. Il vicecomandante della stradale Giampiero Pisani resta in carcere al Bassone di Como e verrà interrogato domani dal giudice per le indagini preliminari.